Per me il buio non esiste, per il semplice fatto che il buio esiste se tu hai visto la luce. Quando avrei avuto sette anni ci hanno portato con la scuola ad ascoltare una narratrice che proprio non leggeva, raccontava a noi storie e io ho subito proprio, è stata una cosa ipnotica. Dopodiché io ho ripetuto per anni, ho raccontato per anni come sapevo farlo, insomma a chiunque mi capitasse io raccontavo quelle fiabe e poi da lì mi sono appassionata per esempio alla narrazione, al teatro di narrazione, a chi riesce con le parole a tenere ferma una platea. Chi recita non vede il pubblico, non solo io non lo vedo perché non lo vedo ma chiunque non vede il pubblico eppure tutti, cioè qualunque attore ti può dire che l'energia del pubblico si sente sul corpo, si sente proprio sul corpo tutto ed è veramente corrente elettrica, cioè nel senso che, e non solo il pubblico ma tutti gli attori sentono gli altri e proprio diventa un fatto empatico. Io da lì ho imparato a sentire col corpo, ho capito che esiste una memoria del corpo. Quello che mi attrae del canto non è a tanto l'armonia delle canzoni, la bellezza delle canzoni, quello sicuramente, però quello che mi attrae è sia quando ascolto qualcuno che canta, sia quando canto io e magari lo ricerco dentro di me, è il timbro della voce, proprio come suona la mia voce. Io ho studiato antropologia culturale, quindi l'uomo come produttore di cultura, però per cultura intendi tutto, cioè da come, non è solo quello che si scrive in un libro, ma è da come si prepara un cibo a come si mette la voce, addirittura c'è una branchia dell'antropologia che è l'antropologia della voce, questa cosa per, come si usa la voce appunto, proprio la voce come timbro, come tono. Questo mi piacerebbe indagare. La mia difficoltà è che è possibile magari trovarsi davanti qualcuno che la prima cosa che coglie è il tuo essere non vedente, la tua difficoltà, questa tua caratteristica, chiamiamola come vuoi, questo tuo limite, ognuno lo legge come vuole e dal punto di vista lavorativo il scegliere, chiudersi. Mi è capitato magari appunto di cogliere che l'altra persona si sentisse, la persona che magari ti fa il colloquio, si sente in difficoltà, magari non te lo vuole far vedere, ma tu in realtà cogli che in qualche modo il suo sentirsi in difficoltà è dovuto al fatto che tu non vedi e che quindi questo non si vuole mettere in gioco, lo percepisce come un limite, come qualcosa di invalicabile, quindi non vuole aprirsi, darti magari una possibilità. Quello che io cerco di fare è non far diventare questo atteggiamento un mio atteggiamento, un mio pensiero, cioè sapere che quella è una sua difficoltà, che non diventi la mia, perché altrimenti appunto si crea poi che è una specie di profezia che si autoavvera, cioè se tu ti poni da subito con il pensiero che tanto tu non vedi, allora arrivi in maniera dimessa dicendo a tanto non mi prendono, tanto è sicuro che è sicuro che non ti prendono. Secondo me è uno sbaglio che spesso anche nel mondo della disabilità, della diversabilità, è pensare che le persone vadano assistite, anche a livello lavorativo, è un discorso assistenziale più che invece di risorsa, cioè ognuno, siccome prima di essere disabile o normodotato, tra virgolette, o quello che è una persona, può essere una risorsa, ringrazio i miei per vari motivi, però li ringrazio soprattutto per non avermi fatto crescere col senso di un torto subito, cioè siccome io sono, la mia società arriva da un errore umano, cioè il troppo ossigeno che mi ha bruciato le rettine, allora i miei fortunatamente non mi hanno fatto crescere con il senso di un torto subito e quindi la necessità di avere una ricompensa, una ricompensa che non arriva, perché questo fa crescere con rabbia, fa crescere, secondo me non dà la possibilità poi di amare. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il sonito e l'abesetario con le parole che penso e declaro, madre, amico, hermano, ilusale, alumbrando la ruta dell'alma che io sto amando.